buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi di cs vera e professionale con la v maiuscolo oggi ragazzi parleremo di kamikaze 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 chi era il kamikaze in giappone con il quale durante la seconda guerra mondiale si buttava il pilota d'aereo con tutto l'aereo contro le navi americane per farsi esplodere suicidandosi per la famosa bandiera perché ti racconto ciò per farti capire che oggi nell'occidente esistono tanti kamikaze che continuano ad andare di corso in corso di guru in guru di personaggi libri eccetera ma il problema rimane sempre là te lo sei chiesto il perché perché come i kamikaze erano stati ipnotizzati tra virgolette da chi comandava su di loro dal loro sistema dai loro poteri forti dell'epoca facendogli capire che rinunciare alla vita era per un bene superiore alla stessa vita così oggi molta gente soffre si dispera e triste ed ascolta sempre lo stesso pastore senza capire che il problema non è lui o lei ma è la televisione è tutto ciò che gli ruota attorno il sistema che inculca nel nostro subcosciente da quando siamo già piccolini come una catena di sant'antonio dai nostri genitori vittime di altre vittime rafforzati dalla tv e compagnia bella i problemi che abbiamo che possono essere soltanto problemi mentali tristezza ansia panico depressione ma anche problemi psicosomatici perché come dico spesso io non ho mai visto una persona felice dentro e fuori come in alto così in basso che si ammali anche di un semplice raffreddore immagino un po di una malattia gravissima perché di solito chi non ha l'equilibrio emotivo purtroppo rischia da studi scientifici lo puoi attestare anche te da solo di ammalarsi più facilmente la causa ragazzi è l'emozione dove risiede l'emozione secondo te nel subcosciente dove risiede l'antidoto all'emozione negativa che ti causa infelicità malessere eccetera nel subcosciente per cui con il potere della tua stessa mente se vuoi smetterla di fare il kamikaze e continuare fino alla prossima vita perché hai una sola vita su questa terra in questo spazio tempo c'è l'ipnosi di cs vera professionale anche e non solo con un audi mp3 di cs dove puoi arrivare veramente risolvere il tuo problema se segui e se seguirai le istruzioni molto facili alla prova di un idiota come al solito non devi credere a nessuna parola del sottoscritto ma al potere della tua mente perché se non credi in te stesso anche se non sai come fare perché nessuno ti ha dato il manuale dell'istruzione inutile che stai qui ad ascoltarmi ok io non vendo nulla ragazzi è la mia associazione di prologi associati los angeles baby hills che ha la gestione delle vendite dei miei diritti d'autore il sottoscritto sta per sviluppare divulgare diffondere il metodo di cs del dottor claudio saracino con esperienze pratiche pratiche e non bla 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 pratica senza nulla togliere ai professionisti della salute nel paese in cui risiedi a cui ti devi sempre rivolgere al tuo medico a farti fare la diagnosi a farti dire cosa è cosa non hai allo specialista della salute poi gli audi mp3 di cs o la stessa ipnosi di cs online in qualsiasi parte del mondo in cui abiti anche se al momento ho sospeso le sessioni online di ipnosi di cs perché sono molto impegnato e ho poco tempo e sono spessissimo all'estero bene e poi ti possono veramente essere integrate alle terapie alle cure alle medicine che prendi perché una cosa non esclude l'altra e qua per qualsiasi dubbio devi sempre andare al tuo medico anche se abiti a parigi a new york a los angeles san milano a roma canicatti a madrid a mosca ok devi sempre però ricordati una cosa non esclude l'altra perché l'ipnosi di cs vera professionale sono solo parole 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 particolari create ad arte a fin di bene e sempre a tuo vantaggio anche a vantaggio del tuo caro che magari non vuole il tuo aiuto oppure non può essere aiutato per vari motivi sta a te vedere il tuo figlio tuo nonno tuo padre perché per come tu pensa che il sottoscritto ha avuto il papà papà rocco nel 2008 colpito da un ictus fulminante e siccome io non ero non solo un kamikaze ho chiesto al medico curante agli specialisti la se l'ho portato dappertutto purtroppo tutti non avevano nulla per far uscire mio padre non dall'ictus perché l'aveva paralizzato per la metà destra del suo corpo ma farlo uscire dal letto perché mio padre per un anno e mezzo quasi due stava a letto e aveva sviluppato piacche dite cupido in tutto il corpo depressione cronica che più ne ha più ne metta scrissi in tutte le lingue in tutto il mondo e chi mi rispose fu soltanto la dottoressa rina brunini anche nello stesso mondo dell'ipnosi medica significa l'ipnosi associata alla medicina tutti dicevano rispondevano luminari molto famosi eccetera eccetera e che non c'era nulla da fare con l'ipnosi e l'ictus e mentre stavo per gettare la spugna la dottoressa rina brunini da los angeles beveri rispose qui trattiamo affrontiamo risolviamo casi di paralisi ictus epilessia autismo parkinson alzheimer hiv e io lì sgranai gli occhi perché all'epoca ero un ipnotista autodidatta avevo miscelato tutte le tecniche di milton erickson dell'ipnosi conformista commerciale de veneman brevemente ottenendo risultati incelsi risolvendo casi di depressione panico ansia insonnia dolori cronici all'osso sacro ai denti bla 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 ottima l'ipnosi conformista commerciale che non va confusa con l'ipnosi fuffa l'ipnosi paura l'ipnosi da spettacolo l'ipnosi da film e che si studia anche a scuola e università ma il metodo di cese l'ipnosi di cese vera professionale che io ho sposato nel 2008 va oltre va oltre non ho mai visto qualcosa di così potente sia come metodo perché funziona anche per chi non vuole per chi non può e anche come suggestioni uniche al mondo parole ad hoc naturali molto potenti senza nessunissimo effetto collaterale come qualcuno potrebbe magari sospettare o far intendere non credere nessuna parola del sottoscritto sappi soltanto che l'ipnosi vera professionale riconosciuta dall'associazione medica mondiale 1958 come medicina alternativa dalla chiesa con papo pio non nel 1847 e funziona 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 il sottoscritto non parla perché ha letto libri ma parla perché ha toccato ha visto perché il sottoscritto cioè io sono come santo maso se non tocco se non vedo non credo per cui chi dice ma che dici che fai sei fuso ma sciocchezze vergogna e tutte queste belle parole sappia che io tutto ciò di cui predico di cui realizzo eccetera eccetera l'ho realizzato direttamente indirettamente anche basandomi su due grandi artisti unici al mondo poco conosciuti ma ti ripeto per me sono in oclus ultra la dottoressa rina brunini il professore dottore michel anghelgarai miei maestri miei mentori miei associati miei amici per questa vita per l'eternità fammi tutte le domande il caso e risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni visita il mio sito internet www.iprologiassociati.com visita la mia fanpage su facebook ipnosi ho avuto ipnosi del dottor Claudio Saracino iscriviti a questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni di cesso del dottor Claudio Saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita come è successo a me e a centinaia e centinaia di persone nel mondo e seguimi anche su instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni di cesso del dottor Claudio Saracino un bacio un abbraccio alla prossima ciao 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 Grazie a tutti.